Una baby gang dedita al traffico di sostanze stupefacenti smantellata dalla guardia di finanza di Caltanissetta con due arresti in carcere e tre ai domiciliari. Le indagini condotte dalle fiamme gialle del gruppo di Gela tra febbraio e aprile 2022 hanno consentito di accertare l'esistenza di una piazza di spaccio nel centro storico di Gela gestita da personaggi gelesi di giovane età tra i quali due minorenni di cui uno diventato maggiorenne nel frattempo dediti principalmente allo smercio di hashish e marijuana. Un'organizzazione ben definita e radicata nelle vie principali della movida gelese tale da garantire l'operatività della piazza di spaccio 24 ore su 24. Con le immagini di videosorveglianza, le intercettazioni telefoniche, i pedinamenti e gli appostamenti sono state ricostruite le strategie criminali. Erano focalizzate su uno strutturato apparato di vendita in grado di fruttare circa 12 mila euro mensili e soddisfare la domanda giornaliera di decine di acquirenti provenienti anche da altre città della provincia. Il consistente giro d'affari era anche oggetto di vanto sui principali social network dove gli indagati erano soliti postare immagini con mazzette di banconote e abbigliamenti griffati facendo sfoggio dell'alto tenore di vita e dei lussi di cui godevano attraverso il traffico di sostanze stupefacenti.